No, vorrei essere chiaro, ho detto che del sud parleremo domani anche se non è elegante che lo dica perché parliamo di una serie di partita. Il tema del basta piangere riguarda il nord, il centro, il sud, non si riferiva a una dichiarazione, a un articolo, a un editoriale di qualcuno, ma ha un atteggiamento, una forma mentis, che è tipica di queste ore, di tanti che di fronte alle cose che stanno avvenendo, che possono essere positive o negative, valorizzano soltanto gli aspetti negativi. Ed è una posizione legittima, una posizione che io rispetto, però io vedo un paese che sta ripartendo e non capisco per quale motivo non valorizzare le cose buone che ci sono. Un miliardo e duecento milioni sul dissesto idrogeologico, sono una rivoluzione copernicana per il nostro paese. Si può stare costantemente a piangere perché il dissesto idrogeologico fa danni e talvolta non soltanto danni, oppure si può cercare, rimboccandosi le maniche, di sistemare il dissesto idrogeologico. A fronte di 2 miliardi e due sulla banda ultralarga, in larga parte al sud, come pure i 750 milioni annunciati oggi da Telecom Italia in larga parte al sud, come pure tutta una serie di interventi che al sud stiamo facendo e continueremo a fare. Alle 15.36 di oggi è stato riacceso l'alto forno 1 di Ilva, è il frutto di un risultato a mio giudizio fondamentale. Noi non permetteremo che Ilva chiuda, non permetteremo che Taranto chiuda i battenti. La differenza tra chi si lamenta soltanto e chi agisce è questa, non è una polemica né ad personam né con chi ritiene giusto fare le proprie denunce, ma è un invito alla constatazione del fatto che stanno accadendo tante cose, tante. E queste cose così importanti, preziose e significative, a mio giudizio vanno sottolineate.